Siamo arrivati alla fine di quest'anno, quindi eccoci con il meglio e il peggio di questa stagione di Basic Gaia. Mi raccomando, contate le volte in cui Gaia ha fatto cadere qualcosa, o quasi cadere qualcosa, o ha sbattuto contro qualcosa, o ha avuto un crampo. Metterò da parte un po' di cinismo per ringraziarvi di quest'anno così particolare ma sempre soddisfacente, grazie ai vostri commenti e alla vostra presenza sempre costante. Sappiamo tutti che se seguite Gaia per me e Log, ma alla fine lei è contenta, quindi perché rovinarle l'entusiasmo proprio oggi? Buon anno nuovo Basic Squad! Io la crisi di mezza età la sto sentendo tutta. Se sì, mi raccomando, scrivete... Praticamente ha un'ottima coprè... dove l'ho messo? Ha il pennellino incolpolato. Me ne sono piaciute davvero molto, questa... molto? No. Poi si trovano spesso in co... in co... in conto. Se magari uno ha esagerato un po' con la polvere... No, si è spenta la luce! Primo spegnimento di luce dell'anno! Però... oddio, stavo perdendo il tappo. E io direi che ci vediamo nel prossimo video. Peace a... ma cosa sto facendo il saluto militare? Ma... Cosa prende? Ciao a tutti! Come avrete letto... cos'era questa mossa? Lei tra l'altro ne mette... Perché ci sono pezzi di schifo? Perfetto. Basta. Oddio, cade tutto. Delle satis... Delle satis... Beh... Non proprio perché... Si è addormentato il piede! Abbiamo su questo trucco da circa 6 ore. Sì. Ok. Ma ho avuto un dubbio esistenziale e matematico. E la uso... No primer. Ups. Che si chiama Tascan Shashay. Pensando... Aia, mi sono impigliato i capelli nelle collane! Ragazzi, ho bisogno degli occhiali da presbite. Ah, sono caratterizzati. Stavo volando. Oh, ehm... Aia! Cosa è giurato? Non volevo metterne così tanto. È veramente... Cosa è qua sotto? Tipo una macchia? Non lo so davvero. Ecco, me lo so anche stampato qua. Invece, ho scoperto... Ho scoperto... Sì, ok. Un fast... Un fast... E una cleansing clean... E... Anche queste... Proveremo. Proveremo. La sto tenendo come si impugna una bacchetta, praticamente. Tantor? Ciao a tutti! Benvenuti in un video. E da come avrete letto dal titolo, questa frase non ha senso. Proprio uno spazzolino da... Ok, e... Buon pomeriggio! Anche a te, Alec! Perché la gente deve urlare dei miei androni? Voi mi dovete spiegare come ho fatto a sporcarmi lì così. Come? Come? Le dita io utilizzo... Non mi viene la parola, io utilizzo... Qua coperto di schifo. Allora, ne tolgo qualcuna di sopra che sono quelle che provo... Allora, le matrice sono tutte... Questa che si è appena suicidata, sono tutte qua. La texture che non mi piace tanto... Centro tre. Madonna raga, l'ho preso per miracolo! E direi che possiamo passare agli occhi. Ok quindi Si aggiornate Ha deciso che sarà più gentile Ha smesso di funzionare Ah crampo crampo Ma cosa sta succedendo Ma perché mi vengono i crampi Forse Forse ho sbagliato un po' le misure Allora Sembra che abbia starnutito sul cacao Non potete capire che casino ci sia davanti a me Per l'altro io non so cosa mi sia successo qua Ma Sono tre giorni che sta crescendo Una nuova forma di vita praticamente Sul mio viso Mi chiama a dire Vabbè Che belle riprese Mamma mia Ragazzi ve lo giuro Nell'occhio Ma raga ma ho un graffio in fronte Si vede che ho un graffio lì Ma raga ma come me lo sono fatto Mi sento come se non avessi neanche le dita Anche quello Che stava scoppiando tutto No mi sta colando la matita nera Ma come facevano gli emo Negli anni 2090 Quando era Con le matite nere che colavano Oddio stavo buttando giù tutto Ciao a tutti e benvenuti In una nuova puntata del Basic Friday No Del Basic Vogue Ciao io lo faccio per voi Lo faccio per voi Va bene Ah non si ferma più Oddio Vado ad usare la matita per sopracciglia di Essence Mi è morto in gola Ah un crampo mi è venuto Ah risposta Vabbè ce la posso fare Cosa è successo qua Che succede Ho fatto una macchia Ab Ah come Madonna mi stava cadendo sul telefono e sul computer Vabbè Shop Mi è morta la faccia in gola Ho deciso Ho deciso Tirato sul pennello Mi è andato su Solo al manico Bene Io ce la faccio a fare le cose senza sporcare Cioè ho appena sparato tutto l'eliner sullo specchio Vabbè Ups Vabbè Qua sembra il set di Narcos in questo momento Qua sto giudendo un casino Mi si scioglie la faccia Ok siamo al terzo Cambio da outfit Zatura Quando Grazie al cielo non è caduto Il futuro che Gialla Strike Come si dice Non so neanche io Dove voglio andare a parare Ho male alle braccia Ho preso troppo arancione No 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 Dio meno male Allora La prima Non me la ricordo più Mi ho messo il gloss E mi si appiccica tutto Aia Aia Bello il mio doppio mento Dovrei farle tutte così le riprese Quanta dedizione per fare sta cagata Ci sono dei pezzi neri Tra l'altro Sempre di espresso E E Ah mi è venuto un crampo alla mano Che invece è Ops L'ho perso Ho perso il correttore Che ho appena usato Dov'è? Tutto blu glitter E sarà tutto blu glitter Non lo so dire E sarà tutto blu glitterato No C'era del blu No Come ho fatto? E se Stavo io Vabbè Ok Ci siamo Questi saranno dei meravigliosi bloopers Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Quanto mi ero Io non so perché Oddio che spavento Pensavo fosse lo specchio di nuovo Se sopracciglia che se ne vanno dove mi pare Tornatevene al vostro posto Make up of session Make up of session Aspetta Massimo Secondo me Tanto terrò il succo Il succo Terrò su il trucco Bene Ho non dato anche lo specchio Devo Asciugarlo Anche il telefono Vabbè Tutto intorno a me è bagnato Adesso Adesso come paletto Scusate 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 Ma cosa ho fatto di male Questo è un tuono Che paura Ragazzi ma l'apocalisse Esattamente per quando è prevista Di quest'anno Giusto così che organizziamo un festino Vi giuro Non so neanche io Come ho fatto Cioè il manico ha tipo battuto sullo specchio Vabbè Non importa Quindi ci sta Secondo me Sto sbattendo sto specchio ovunque Come fondotinta Vado Ops Mi devo dire che oggi Comunque La CC Perfection Blah 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 Non trovo la risposta alla domanda Non ti ho fatto nessuna domanda Non puoi andare di là E se no ti nascondi sotto il letto Non ti tiro più fuori Ragazzi siamo a sta No no sono lucida Cosa stai facendo Cosa stai facendo Alla luce Non staccarmi la luce E ci vediamo nel prossimo video Peace out No l'ho fatto con la mano sbagliata Ragazzi io ve lo giuro Che mettersi questo coso di plastica Adesso che inizia a fare caldo Cioè si forma una cappa Allucinante Bellissimo Ok è un sierola Ciao Di ciao a tutti Di peace out No Log Log Lascia stare la mia pianta Log per una volta che non facevo cadere niente E io devi farlo cadere tu Sembra uno di quei giocattoli che schiaccia e fanno i suoni Normali Che ha Che non riesco a tenere in mano Tu Mi dato di traverso qualcosa È possibile che io appena finisco di filmare Tu vuoi venire in braccio? Io devo mettere a posto tutto Tutto devo mettere a posto Non posso farlo con una mano sola Ok Oggi la mamma va a fare i capelli Ma lo sai Non sarò più come te praticamente Nel stesso colore Ma vabbè ragazzi Io mi sono qua a girare E guardate lui Si è messo lì Ma mio Come faccio a lavorare? Mentre se asciugo la colla vado a mettere No Perché mi indico la bocca Dicendo una cosa Vabbè Non ha senso Ale Oggi veramente Non so neanche io Cosa sto facendo Fresco Leggine Meno ce n'è Meno ce n'è Vabbè 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 Dovevo portarmi il treppiedi Revolution No Non sul computer Anche quello da almeno due anni Ecco l'ho che si fa le unghie sul mio tappeto Questi diamanti In me Incastrato Non lo tirerò mai qua C'è qualcosa di appiccicaticcio qua Questa palette di Non ci vediamo nel prossimo video Peace out Perché non so più fare peace out E devo capire quale No Ehi 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 Ma Non andare sul computer Ok Log ha trovato la mia cavigliera con cui giocare Basta Pratica Vabbè Bene Ho spaccato il tappo di questo Sono tornata proprio a pieno regime Devo dire Cioè Dici magari dopo le vacanze Uno No Il microfono Cioè Ha tirato una zampata al microfono Vai giù Io che non stavo sfumando questo Ciao E se vi è venuto a vedere se ti piacciono i prodotti Non camminarmi sul computer Per piacere Perché 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 l'hai dovuto buttare giù Per giocarci Io non vedo l'ora di avere Casa nuova Lo studio Con una porta Che posso chiudere E posso chiudermici dentro E lavorare Perché Lo giuro che Bene Ho buttato giù Qualcos'altro Vlog Comunque nel caso Una camera Con la seconda No aspetta Una No In quel caso Una In quel caso In quel caso Una seconda camera La casa ce l'ha Ok sì Aspetta poi andiamo a Solo una cialda Almeno la posso Reutilizzare Non mi vengono i verbi Il best seller Stava volando tutto Vlog Scendere Sì cortesemente giù Grazie Ma io posso Filmare i video Con lui dietro Così Cioè Ma Ti pare normale Stavo soffocando Ah Mi si è addormentato Il piede Imposto il volume 5 Perché mi stai Letteralmente Trapanando le orecchie Adesso si sta Partendo anche Un trapano Bene Mi sta volando Lo specchio Paggiamolo da qualche parte Della loro Le Che praticamente Le va Innanzitutto Per dei pezzi Sto cosa Innanzitutto Quindi lei va Ma ce la faccio Spero si veda Ma comunque Saranno Nel trasloco No vabbè Mi sono martellata Al dito Mi ha saltato Un pezzo di unghia Non so Sono proprio Per di ovunque Ok Friends per Per l'evolution Perché non riesco a dire E È quella di Science Boy Ce la faccio Tenere l'aperto Primo pennello Caduto Nella casa nuova Perché Aia No però dobbiamo spostarci Un pelino Allora c'è Torino Corso Romania Corso Telesio Angolo Corso Francia Via Roma Poi c'è Grugliasco Le gru Pavilion Decisamente Non so Stato E oggi Io lascerò La mia vita Leggere via Quel pezzettino Che sporge Sto vloggando Volete vedere Gaia Senza Naso In diretta Oh grazie Oh ok Mi davo un fastidio Così Comunque mi piace Cioè devo dire E E In realtà Stava partendo Sono sicura Che il medico Quando ha detto Di stare a riposo Intendeva Proprio fare Questa Allora Considerando Che lo specchio È caduto E non si è rotto Davanti Si è rotto Dietro Non so come prenderla Sette anni di sfiga O no Chi lo sa Che di questi tempi Cioè N'è proprio bisogno Di altra sfiga Sì Va bene High protection FPF Io che cercavo Di specchiarmi Con lo specchio Al contrario Comunque Sto bene Sì Credo Non ho l'olio Che che Comunque È stato Molto meglio Chi mi sta chiamando Pronto Pronto No no Sono già posto Sto lavorando Mi dispiace Volevo fare Centro Del cestino Ma ovviamente Non sono riuscita Anche se A 20 centimetri Da me Quindi Avrei preferito Quella Quindi sono molto Contenta Che sia venuto Fuori Se non si è rotto Tutto Miracolo Adesso ce ne sono Anche alcuni Colorati Vediamo Di Aia Forse solo il nero Aveva un senso Aia Come fondotinta Come vi ho detto Ho scelto di usare Qualcosa che sia Il massimo Che posso fare Ho messo anche Nei capelli Molto bene Quindi Adesso E adesso C'è una diramazione Su Instagram Mi più Questa che è stupendo Perché non riesco A tenerla Per Prudeli Prudeli Aia Partiamo bene Anche col saluto La paletta di Nabla Sì Di Nabbe La paletta di Nabla Ce la faccio Non è pochissimo Adesso si parte Ovviamente ho preso Non questo Nel frattempo Invece vado Per buttare giù lo specchio Perché era così Linea grezza Grezza Che è grezza Appunto Questo tappo Di che cos'è Ho messo Upside down Mi sto perdendo E confondendo Da sola Di Wicom Ups Perché non riesco Ad aprirlo Penso di aver Ingoiato Qualche glitter Water Che è questa Per veramente Farvi Stiamo volando Tutto Ma E cosa ne pensate Se vi siete Si vede Che sono agitata Cioè non sto respirando L'avevo già distrutto Cioè Come ho fatto A far uscire Tutte le capelli Questo pennello Si è già Suicidato da solo L'altro anno Mi ricordo Che c'erano Tanti di questi Ma poi Sono di Revolu- Non ho tolto la suoneria Prolution Per di Per Disney Tra l'altro Volevo un attimo Finire gli occhi Che tini già fatti Finiranno mai i lavori Nell'altro palazzo Scegliere Scegliere Ma perché non so parlare È rossetto Sì è rossetto Ma è un mascara Sono dei rossetti Semi matte E Questo qua È quello piatto Come lip pongo Come lip pongo Ma questa volta Essence Sì è davvero Sì ciao Essence Stiamo parlando di Astra Sono 20 tonalità Cosa sta succedendo Ciao a tutti Benvenuti In un nuovo Basic Christmas Stavo per dire Tra Basic Friday Basic Christmas Basic Vogue Forse sto un pochino esagerando Questo era il computer Perché non riesco ad aprirlo Si chiama Smudge Ige Ige Faccio un pelo Log Lascia stare la pianta Ti avevo detto Che ti lasciavo qua Solo Se non facevi casino Ecco Si è rubato Un pezzo di pianta Come ho fatto Anche per questo correttore Se dopo Vabbè E mia mamma Mi ha detto Che sono troppo Buon Che pat in Paris Mi volevo appoggiare Ma non c'era la schiena Salute Cos'hai rubato? Vieni qua Ovviamente Mi si era scaricata Cosa? Mi si era scaricata Tutto mi si era scaricata? Molto bene Ovviamente Mi si era scaricata La videocamera C'è la batteria No 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 Cominciamo Non Sì Mi si era scaricata Diarco Non Grazie a tutti.